Ciao a tutti e benvenuti nella nostra sessione di Astrologia Oggi. Siamo felici di accogliervi qui per esplorare insieme l'oroscopo del giorno. Preparatevi a immergervi nelle stelle e a scoprire cosa il destino ha in serbo per voi. Senza ulteriori indugi, iniziamo questo viaggio affascinante nel mondo dell'astrologia. Buona fortuna e buon divertimento. Ciao ariete. In questa fase un po' il turbolenta, i nati sotto il segno dell'Ariete potrebbero trovarsi a fronteggiare alcune incomprensioni con i colleghi, a causa di divergenze di opinioni. Tuttavia, è importante non drammatizzare eventuali situazioni non favorevoli sul lavoro. Affrontate questi momenti negativi con filosofia, poiché sono transitori. Evitate di riversare lo stress lavorativo nell'ambito amoroso. Hai richiesto forza e l'universo ti ha risposto con sfide impegnative, ricorda che queste prove in determinati settori della tua vita sono lì per farti crescere. Imparerai le lezioni vitali che saranno fondamentali per il tuo futuro. Sappi che possiedi la forza, la maturità e l'intelligenza necessarie per superarle, non dubitare mai di te stesso, fidati. Ci potrebbero essere questioni apparentemente risolte che richiedono ulteriore attenzione. Dedica del tempo per riesaminare e risolvere ciò che può essere risolto, e sii sincero con te stesso su ciò che puoi tollerare. Condividi i tuoi pensieri con persone di fiducia, ascolta i consigli e accetta i propri errori con saggezza. Ricevere aiuto con umiltà contribuirà notevolmente alla tua crescita. Ciao Toro Questo è il momento ideale per dedicare più attenzione a voi stessi, prendendovi cura del vostro corpo e del vostro benessere psicofisico. Potrebbe essere che abbiate trascurato i vostri interessi per troppo tempo e ora vi rendiate conto di aver dato priorità a cose che non lo meritavano. Grazie all'ausilio astrale, potreste vivere momenti piacevoli anche in amore, con il vostro partner che cercherà di sorprendervi con piacevoli novità. Ricorda sempre il tuo vero valore come individuo e non accettare atteggiamenti che minano i tuoi valori. Evita chi non ti apprezza e non permettere a nessuno di mancarti di rispetto. Hai ricevuto una notizia importante per la tua vita professionale, e questa è una ricompensa meritata. Se non è ancora arrivata, mantieni la pazienza, perché arriverà presto. Ciao gemelli La giornata di mercoledì si prospetta dinamica per i gemelli, che avranno un'energia travolgente e una forte voglia di agire. Dopo un periodo grigio, rivivete il desiderio di momenti spensierati e la volontà di dedicare più tempo ai vostri interessi. Gestite le vostre energie in modo equilibrato per massimizzare il beneficio di questa positiva fase di rinascita personale. Il messaggio speciale per te è di non ignorare le tue emozioni. Supprimerle non è la soluzione, la sofferenza è parte integrante della vita, così come la gioia. Esprimere le emozioni più profonde è la chiave per superare la tristezza. Ascoltati sinceramente senza giudizio, e vedrai come le cose si chiariranno magicamente. Affronta le decisioni importanti pensando a ciò che veramente desideri e di cui hai bisogno. Anche se alcune cose non sono ancora chiare, fidati che tutto si risolverà positivamente. Lavora per placare l'angoscia e aspetta il meglio, perché è destinato a te. Ciao Cancro Ricorda che la realizzazione personale e la felicità provengono dal cuore. Fare ciò che ami porterà progetti migliori, relazioni più stabili e l'equilibrio in ogni area della tua vita. La fortuna è dalla tua parte, anche se potresti non crederci. Sii grato per ciò che hai e non concentrarti su ciò che manca. La fortuna ti sorride, e i progetti in cui credi porteranno frutti significativi in un futuro non così lontano. Sarete presto chiamati a prendere decisioni cruciali per il vostro futuro. Secondo l'oroscopo del giorno, affidatevi al vostro istinto e non lasciate nulla al caso. Potreste considerare di chiedere consiglio a una persona cara che vi sta a cuore per ottenere un'opinione preziosa sulla strada da percorrere. In generale, circondatevi solo di persone positive durante questa fase, mettendo da parte provocatori e influenze negative. Ciao Leone! Grazie a questi auspici celesti, si profila un nuovo capitolo ricco di promesse per le relazioni interpersonali. Dopo un periodo in cui la chiarezza e il desiderio di interagire con gli altri erano in calo, ci si avvia verso una fase più serena, ideale per costruttive connessioni umane. Se avete notizie importanti da condividere con il vostro partner, questo è il momento giusto. Approfittate di questa fase per esprimere i vostri sentimenti e affrontare questioni cruciali. Il messaggio più straordinario per te consiste nel rivelarti che tutte quelle situazioni, relazioni, progetti e obiettivi che pensavi fossero irrimediabili o difficili da mantenere a galla, stanno per iniziare a evolversi positivamente nella tua vita. Le risposte che cerchi arriveranno prima di quanto immagini. L'universo ha messo in luce aspetti su cui devi ancora concentrarti, ma soprattutto, ti ha aperto la strada verso un cambiamento positivo. Hai imparato ciò che è necessario per liberarti dai legami del passato, dimostrando a chiunque cerchi di ostacolarti che non potranno abbatterti. Il tuo percorso di crescita è stato significativo, ora goditi tutte le benedizioni che stanno arrivando, perché te le meriti appieno. Ciao Vergine I nati sotto il segno della Vergine si preparano ad affrontare sfide significative sul fronte lavorativo. Mantenere un atteggiamento costruttivo e agire con creatività sarà fondamentale per raggiungere i risultati desiderati. Nonostante un periodo teso e agitato, ora avete l'opportunità di riscoprire le vostre ambizioni fondamentali. Siete i creatori del vostro destino, quindi mostrate risolutezza e determinazione. Ti incoraggio a sfruttare al massimo questo periodo favorevole che stai attraversando. La fortuna è dalla tua parte, predisponendo il terreno affinché i tuoi progetti sboccino, le relazioni si sviluppino e si rafforzino, e la prosperità personale e il successo prendano slancio nella tua vita. Metti il massimo impegno nelle tue azioni e cogli le opportunità che si presentano, non lasciare che nulla ti sfuga di mano. È il momento ideale per restituire all'universo il bene che hai ricevuto, sia a livello materiale che spirituale, attraverso gesti di generosità sincera. Ricorda che ogni buona azione si ripercuoterà positivamente quando ne avrai bisogno. Ciao bilancia. Ciao scorpione. Novità interessanti si profilano sia nella vita lavorativa che in quella sentimentale. Secondo l'oroscopo del giorno, le attuali posizioni astrali potrebbero portare cambiamenti significativi. Approfittate delle opportunità che si presenteranno senza lasciarvi prendere dal panico o dallo scetticismo. Questo non è il momento di esitare di fronte a decisioni cruciali per la vostra vita e il vostro benessere finanziario. Non lasciare che le preoccupazioni quotidiane e lo stress ti impediscano di apprezzare i momenti belli e le benedizioni presenti nella tua vita. Non interrompere la tua esperienza di vita proiettandoti solo nel futuro, vivi il presente. Questo è un momento cruciale per la tua crescita personale, e opportunità lungamente attese stanno finalmente arrivando. Abbracciale senza esitazione, poiché porteranno progressi significativi nella tua vita. L'universo ha rivelato verità importanti che potrebbero esserti sfuggite, indicando chiaramente che andare avanti e lasciare alle spalle ciò che non contribuisce al tuo benessere è la migliore decisione. Non permettere al passato di tornare indietro e resisti alla tentazione di ricadere in vecchie abitudini. Sii saldo nel tuo impegno per un futuro migliore. Ciao Sagittario Un periodo introspettivo si apre davanti a voi, invitandovi a riflettere attentamente sui vostri interessi e a definire chiaramente i vostri obiettivi futuri. Questa non è una semplice contemplazione, ma un passo fondamentale verso il vostro destino. Seguite le vostre aspirazioni, dando priorità a ciò che realmente vi appassiona e affidandovi al vostro istinto. Non permettete a energie negative di frenare le vostre ambizioni, beh è il momento di liberarvi da influenze dannose. Un prezioso consiglio per te è quello di ampliare la tua prospettiva nelle situazioni che stai attraversando. Riconosci il tuo valore e non temere di abbracciare il cambiamento. Tutto ciò che è accaduto nella tua vita ha una ragione valida, e ora è il momento di riflettere attentamente su come gestirai le benedizioni e i nuovi ricordi che entreranno nella tua vita. Fai attenzione alle tue scelte finanziarie e relazionali, investi saggiamente e distanzia te stesso da influenze negative. Non perdere tempo con coloro che non contribuiscono positivamente alla tua vita, concentrati invece su chi ti ispira. Lascia che i problemi vengano affrontati successivamente, mentre sogni di realizzare le tue aspirazioni. Ciao Capricorno! Oggi è la giornata ideale per dedicare del tempo al benessere psicofisico. Potrebbe essere il momento propizio per iscriversi in palestra, soprattutto per coloro che hanno accumulato qualche chilo di troppo durante l'inverno. Affrontate le sfide quotidiane con un nuovo ottimismo, avendo ben chiari i vostri obiettivi futuri e sapendo cosa volete perseguire e cosa lasciare indietro. In questi giorni, un messaggio speciale per te è che il tuo cuore e la tua anima stanno subendo profonde trasformazioni. Potresti non esserne pienamente consapevole, ma riconosci il tuo percorso di crescita. Le ferite del passato stanno lentamente guarendo, e ora è il momento di fidarti di te stesso per affrontare nuove sfide. Sii aperto a nuove passioni e inizi, che ti porteranno a nuove altezze. Abbraccia le opportunità inaspettate con entusiasmo e guarda come la tua vita cambia radicalmente. Non farti distrarre da influenze negative e continua a guardare verso l'alto, concentrati su ciò che ti emoziona e ti fa sentire vivo. Ciao Acquario! In questo momento, vorrei condividere con te un messaggio speciale che parla di fiducia, forza e connessioni significative. Innanzitutto, sappi che sei dotato di tutte le risorse necessarie per percorrere il tuo cammino con successo. È importante che ti fidi di te stesso, ascoltando la tua voce interiore e seguendo il tuo istinto. Le persone che ti circondano sono una squadra incredibile che hai scelto per accompagnarti nella tua vita. Fidati di loro, ascolta i loro consigli e opinioni. La forza di questa unione porterà a grandi risultati che saranno benedizioni per tutti. Ricorda, tutto ha il suo tempo e la giustizia si manifesta quando meno te lo aspetti. Lascia che la giustizia divina si occupi di ciò che sfugge al tuo controllo e concentrati su ciò che puoi influenzare positivamente. L'universo può scuotere la tua vita con forza, ma questa è spesso un'opportunità di crescita. Hai affrontato aspetti vulnerabili di te stesso e delle persone importanti nella tua vita. Il tuo sostegno è un regalo prezioso per gli altri, e ricorda che puoi contare su di loro quando ne hai bisogno. Questo periodo ti ha insegnato a riconoscere le vere priorità nella vita e a dare il giusto valore a ciascuna di esse. Ciao pesci! Ora, vorrei dedicarti un messaggio speciale incentrato sui nuovi inizi. È importante che tu ricordi che ogni nuovo inizio porta con sé sfide e alti e bassi. Questo è un processo normale e temporaneo. La chiave è avere fiducia nel processo che stai attraversando. Abbraccia i cambiamenti, anche quando sembrano complicati, poiché presto le cose miglioreranno e prenderanno forma. La stabilità che stai sperimentando oggi non solo rimarrà, ma crescerà ancora di più. Molte esperienze positive sono in arrivo, creando tempi favorevoli sia per te che per le persone a cui tieni. Rallegrati di ciò che hai raggiunto. Prendi le cose con calma, non c'è bisogno di affrettarsi. Resistere all'ansia e goderti il momento ti permetterà di apprezzare appieno le opportunità che si presentano. Ricorda che il tuo atteggiamento positivo e l'energia che investi in te stesso sono fondamentali per attrarre il bene nella tua vita. Sii paziente e prenditi il tempo necessario per realizzare i tuoi sogni. Tutto si svilupperà in modo incredibile se mantieni una prospettiva positiva e costruttiva.